Un anziano di Sala Consilina è risultato positivo al coronavirus, si è saputo nella tarda serata di sabato. Si tratta di un ospite di una casa di riposo di Sala Consilina, trasportato all'ospedale di Oliveto Citra con i sintomi del Covid-19, sospetti poi confermati dall'esito del tampone. Ma la sua positività ha fatto scattare l'allarme nel Dipartimento di Prevenzione del Distritto Sanitario dell'Ovalo di Diano, guidato da Rosa D'Alvano, che ha di fatto sigillato la struttura di Sala Consilina e isolato gli anziani ospiti e il personale presente all'interno della stessa. Tutti, nella giornata di oggi, saranno sottoposti a tampone per cercare di comprendere la situazione e capire anche il grado di allarme di questa situazione. L'esito degli stessi potrebbe arrivare già in serata. Occorre anche aggiungere che la gestione della casa di riposo aveva effettuato nel corso del tempo e più volte sanificazioni e pulizie ancora più accurate del solito e non fatto incontrare tanti anziani in luoghi comuni con assiduità. L'anziano di Sala Consilina, risultato positivo, sta in buona salute nell'ospedale di Oliveto Citra.